I miei compagni e io ci siamo impegnati veramente tanto, siamo insieme dal 26 giugno e speriamo veramente di vincere questo europeo. Come sempre studieremo le avversarie, ci prepareremo e daremo il 100% come abbiamo fatto fino ad adesso. Ovviamente prima della partita sempre ansia e man mano che si gioco ovviamente soltanto la voglia di vincere. Martina Sizia, questa sera un gran contributo anche da parte dei portieri contro l'Azerbaijan. Sì, oggi io e Sara ci sentivamo abbastanza in forma, abbiamo studiato bene le nostre avversarie, siamo entrati in campo abbastanza cariche e grintosi ovviamente. Ragazze, qual è la partita più importante? Quella da giocare, ovviamente.